di inizio di serata, ma questo avrebbe potuto influenzare la giuria. La giuria è assente, stanno facendo i loro conteggi e noi dell'organizzazione dello scorso anno, i nostri componenti della consulta scientifica, i nostri professori universitari, su Imbeccata di Frangomegna, hanno scelto per lo scorso anno, ripeto, non c'entra niente quest'anno, la voce più bella del festival dello scorso anno, tanto è vero che è stata la colonna sonora della nostra assemblea, è stata la colonna sonora, l'anello conduttore di tutta l'assemblea e la FITB, ma non la FITB in modo particolare, il presidente della FITB, cioè il sottoscritto, ha voluto premiare questo signore per quello che ha fatto per il folclore e che sta facendo per il folclore pugliese, quindi esula del tutto da questa manifestazione e ripeto, grazie alla consulta scientifica, io intendo questa sera e sono veramente orgoglioso di essere rappresentato da questo signore che riceve questo premio dalla presidenza e non può, sì, anche per motivi di essere rappresentati, dobbiamo arretrare un attimino, perché il premio, siccome è un premio del Presidente, quindi sarebbe stato il Presidente a dover presentare questo omaggio all'amico Mimino, invece ce l'ha in mano, l'omaggio molto bello, ce l'ha frangomegna, ma perché ce l'ha frangomegna? Ascoltate perché ce l'ha frangomegna in questo momento. Sì, 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 sì. Sì, 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 davanti a questo grande mare grazie, grazie Franco, grazie Milino non c'è da aggiungere alcuna parola se non direi grazie a questo grande, grande indelte della tradizione pugliese a nome del Presidente e anche degli amici della FIT grazie ok, non dobbiamo far altro? per il momento va bene così io vi ringrazio, naturalmente potete ritornare a vostri posti il Presidente è un po' più avanti per la fotografia sta impazzendo il Presidente dall'altra parte c'ha ragione perché il fotografo è venuto con i capelli neri entrati ce l'ha bianchi praticamente, li hanno fatti impazzire mettiamoci a favore abbiamo abbastanza campo fotografico? o devi andare più lontano? stato, a posto? ok, grazie una cosa vorrei ringraziare anche Sergio Mancia il mio amico che da 30 anni, 34 anni mi segue grazie Sergio, grazie di tutti grazie a tutti e adesso